E poi c'è un livello, ma l'hanno chiuso a Stani. C'è assai concorrenza, c'è... Le persone hanno chiuso a comprare. Anzi, meno male che il Can Germano ancora non ce l'hanno fatto passare, sta felice idea di tenere la domenica aperta. Da Can Zetà, che so che ha messo? No, si dirà per la domenica, di avere la domenica che è chiusa. La domenica è libera, no commercio. Non c'è vaglia. Ti trai fiamma le mie, faccio a fare una sonda. Ma non è che la domenica è libera. Ma non è che la domenica è libera. No, no commercio. Non c'è c'è vaglia. Dalle 1 fino alle 8, oppure la mattina fino alle 3. Ma non è che la domenica è libera, ma non commercio. Ma non è che la domenica è libera. Tutte le idee arriva, no prima poi. Allora, vi fanno in l'altra, in Richtung Jungebusch. Allora. 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 Allora.